Giunco è una società nata ad inizio 2014 che ruota attorno a un progetto che si chiama Junker. Junker è un servizio che consente ai cittadini di scansionare il codice a barre di un prodotto per sapere come differenziarlo. Junker utilizza l'unico identificativo univoco che sta sui prodotti, ovvero il codice a barre, per risalire ai materiali di cui è composto. L'idea è nata da un'esigenza pratica, quotidiana, quella di sapere dove differenziare un prodotto, che è un'operazione non banale. In Italia non esiste uno standard ed ogni comune ha i suoi metodi per differenziare i prodotti, quindi il cittadino si trova disorientato e la raccolta differenziata diventa un processo effettivamente difficile. Per questo Junker si rivolge alle municipalizzate, che possono quindi fornire un servizio ai loro cittadini, un servizio chiaro e semplice da usare il più possibile, anche per sensibilizzarli ad un tema che è molto importante, che per noi è un tema molto importante, quello di ridurre al minimo i rifiuti indifferenziati. Differenziati.